Nel compleanno di Rossini, donati alla città, nuovi reperti rossiniani. Si inaugura l'auditorium, ma non si dimenticano tempi e costi gonfiati. Lezioni di legalità, guardia di finanza in cattedra al liceo. Capitale della cultura per una settimana e il turno di Fano. VL si intitola la curva alla memoria di Marco Piccoli. Una buona serata a tutti voi amici e amici di Rossini TV. Ben ritrovati al nostro appuntamento informativo serale di Rossini News. Telegiornale delle Canale 80 che in questa edizione di 29 febbraio apriamo con il significato molto particolare di questa data. Infatti il giorno extra dell'anno bisestile è il giorno del 232esimo compleanno di Gioacchino Rossini, il pillustre cittadino pesarese nato proprio nella nostra città il 29 febbraio 1792. Poco fa vi abbiamo trasmesso in diretta la cerimonia di inaugurazione dell'auditorium Scavolini, ex vecchio hangar di Viale dei Partigiani, che ospiterà parte del Rossini Opera Festival da questo agosto. Una inaugurazione che si sta concludendo ora e di cui vi forniremo ulteriori dettagli più approfonditi nel nostro telegiornale di domani. Però è un compleanno di Rossini che non si è celebrato solo all'auditorium. Tanti appuntamenti da casa Rossini al Museo Nazionale Rossini in giornata dove c'erano aperture gratuite e dove sono stati regalati in dono alla città nuovi reperti rossiniani. Vediamo. Nel giorno del 232esimo compleanno di Gioacchino Rossini, una lunga giornata alla scoperta di vita e opere degli più illustri cittadino pesarese. Tanti visitatori hanno approfittato della giornata di aperture ad ingresso gratuito di Casa Rossini e Museo Nazionale Rossini. Museo e Fondazione Rossini che nel giorno del compleanno hanno ricevuto in dono anche reperti rossiniani inediti. Una lettera e un autografo musicale regalati alla città dal professore fiorentino Giovanni Cascio Pratilli che ne era in possesso. Il professore è molto anziano, il proprietario delle lettere è molto anziano e senza eredi e quindi prima di lasciare questo mondo desiderava che questi due inediti fossero destinati a chi li potesse conservare e mantenere nel tempo. I inediti sono Henriens dedicato a Giulia Corridi Hall, una signora fiorentina, moglie di un banchiere e è tratto dai pesce de veillesse però ha delle varianti rispetto ad altre composizioni sullo stesso tema e Alessandro Marangoni ha messo in evidenza queste varianti nel volume. L'altra invece è una lettera che sempre Rossini scrive da passì al suo amministratore fiorentino perché è in ballo la vendita del palazzo di Via Larga all'epoca, oggi Via Cavour, di questo immobile perché lui voleva disfarsene. Una donazione applaudita a margine della presentazione annuale dell'attività editoriale della Fondazione Rossini. Attività editoriale, volumi dell'edizione critica che sono usciti proprio di recente a dicembre Edoardo e Cristina a cura di Andrea Malnati e Alice Tavilla che è anche l'opera che ha aperto il Rossini Opera Festival l'anno scorso ed era in prima moderna mondiale. Il bollettino nell'edizione ormai curata da Matteo Giugioli e Selin Frigao Manning che sono i due direttori editoriale e scientifico nella collana delle tesi rossiniane, quella di cui noi teniamo tanto perché è la nuova fucina sono i nuovi musicologi che si approcciano L'altro elemento importante è la ricerca che sta andando avanti sull'epistolario rossiniano E come vi abbiamo anticipato vi mostreremo l'inaugurazione dell'auditorium Scavolini che si sta concludendo proprio ora in un approfondimento nel nostro telegiornale di domani sera ma al di là degli applausi per il traguardo raggiunto c'è chi non dimentica i tanti errori e i tempi gonfiati così come i costi in questi quasi dieci anni di progetto per questo vecchio palasport di Pesaro Assunzione di responsabilità e vigilanza sul percorso della nuova struttura sulla quale anche questa mattina erano in corso le ultime rifiniture Nel giorno in cui l'auditorium Scavolini vede la luce fra Viale dei Partigiani e Viale Marconi sulle ceneri del vecchio hangar l'opposizione in consiglio comunale di oggi e di ieri non dimentica gli errori su un cantiere che oggi vede il traguardo dopo un percorso che è stato un'odissea lievitate in maniera esorbitante per quel che riguarda tempistiche e costi Chiaramente quando si inaugura un edificio nuovo in città è sempre un momento comunque importante però non bisogna assolutamente dimenticare quello che è successo e questa amministrazione sicuramente oltre ai momenti di festa per inaugurazione di questo impianto farebbe bene chiedere scusa alla città perché come ben sapete è un impianto che la costruzione è durata ben dopo l'annuncio nel 2016 viene inaugurato il 29 febbraio del 2024 dove i soldi che erano stati preventivati a 3 milioni e mezzo sono arrivati quasi a 10 milioni di euro ci sono delle responsabilità anche in fase di progettazione nella fase iniziale perché non si può preventivare di spendere 3 milioni e mezzo ed arrivare a spenderne 10 se tutto ciò cadesse in un'azienda privata non so che fine farebbero sicuramente coloro che hanno portato a questo risultato e se si fosse lavorato allacremente e velocemente come in queste ultime settimane sicuramente non saremo qui è ora che quando ci sono queste situazioni e si fanno questi errori qualcuno deve assolutamente pagare ognuno deve fare le sue valutazioni contenti che l'impianto apra sicuramente molto meno contenti di quello che è successo e di tutto quello che c'è attorno ringraziamo comunque la famiglia Scavolini per il contributo che come sempre dà anche per questo impianto in questo caso anche alla città quindi bene per queste cose molto meno bene per tutto quello che c'è stato prima il nostro compito come consiglieri comunali sarà proprio anche una verifica non solo sui costi non solo sull'allungo infinito del cantiere ma anche una verifica che davvero questo palazzetto sia aperto a tutti e che da domani possano esserci iniziative tutti i giorni e sia un po' il volano di Pesaro Capitale della Cultura possa ospitare iniziative, possa ospitare persone verificheremo che ci siano tutte le autorizzazioni che consentono l'accesso alle persone per il pubblico spettacolo rimarremo sul pezzo e non ci faremo intimidire sicuramente dal fatto che è arrivato un parere favorevole chiederemo la documentazione perché è giusto che i cittadini pesaresi possano utilizzare il palazzetto possano farlo al meglio e possa ospitare gli eventi della Capitale della Cultura è morto il camionista di Urbino rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri a Bologna di cui vi abbiamo dato notizie nelle telegiornali di ieri sera il 52enne sulla tangenziale di Bologna le prime ore di ieri attorno alle 8 si è scontrato con un altro tir le condizioni sono parse subito molto gravi e l'uomo è morto nella notte all'ospedale maggiore di Bologna oggi 29 febbraio ricorre anche la giornata mondiale delle malattie rare per questa occasione un treno speciale partito da Ancona ha fatto tappa in tutte le principali stazioni ferroviare costiere marchigiane Pesaro e Fano comprese per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività di ricerca, prevenzione e cura legate a tali patologie l'iniziativa è stata promossa dalla clinica medica dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche in collaborazione con la regione, con Trenitalia e con il gruppo italiano lotta alla sclerodermia il treno speciale è stato a disposizione delle persone affette da sclerosi sistemica e sclerodermia che è una malattia rara paradigmatica che colpisce cute e organi interni per la quale la clinica medica universitaria è centro di riferimento nazionale ed europeo le persone affette e i loro familiari hanno potuto così incontrare sul treno medici e professionisti sanitari rappresentanti delle istituzioni e personalità della società marchigiana con 192 milioni di euro la regione Marche si colloga al secondo posto in Italia dopo il Piemonte nelle risorse attivate nei bandi a sostegno della ricerca, dell'innovazione, degli investimenti produttivi e del credito per le imprese nonché al primo posto per quello che riguarda il valore medio delle risorse attivate per imprese dati incoraggianti che sono stati presentati dall'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Antonini Siamo la regione che il rapporto agli abitanti e il rapporto alle imprese ha immesso più risorse per le imprese su questa nuova programmazione quindi parliamo di quasi 200 milioni di euro già a disposizione che significa ovviamente uno sviluppo di risorse altrettanto importanti che i quali benefici poi ne ovviamente trarremo durante il prossimo anno e quando i progetti verranno sviluppati però volevo appunto così sottolineare questo dato importante perché quando parliamo di programmazione legata all'ecosistema imprenditoriale economico regionale fondamentale è il buon utilizzo e l'immediato utilizzo delle risorse che abbiamo a disposizione quindi le imprese marchigiane sono le imprese che in assoluto in Italia stanno maggiormente beneficiando delle risorse pubbliche ovvero la ricerca, lo sviluppo, gli investimenti produttivi e il credito e attraverso appunto questi strumenti stiamo dando credo delle risposte veramente fondamentali non ce n'è uno più importante dell'altro perché rappresentano anche uno sviluppo diciamo anche cronologico cioè non c'è sviluppo industriale se alla base non c'è ricerca se non c'è voglia di fare innovazione in più il credito è una delle richieste maggiori che ci sono arrivate l'accesso al credito per le imprese abbiamo creato un sistema che reputiamo tra i migliori in Italia in questo 2024 compierà 250 anni il Corpo Nazionale della Guardia di Finanza Fiamme Gialle che stanno portando la loro esperienza e la loro educazione alla legalità anche nelle scuole come è avvenuto questa mattina al liceo Marconi di Pesaro alla presenza del comandante regionale della Guardia di Finanza Si consolida una sinergia tra il mondo della scuola e il mondo della Guardia di Finanza oggi parleremo anche di legalità, legalità economico finanziaria e credo che questi elementi, questi aspetti siano di fondamentale importanza per ogni cittadino quindi indicare quali siano le linee di azione virtuose in uno stato di diritto agli alunni di questa prestigiosa scuola credo che sia una condizione imprescindibile per una crescita una crescita che possa essere sempre più evoluta e al passo con i tempi Il nostro liceo da tantissimi anni si occupa di legalità la legalità è fondamentale i cittadini italiani, i cittadini del mondo non possono avere cultura se non basata sulla legalità sui valori fondamentali della nostra cultura italiana pertanto la legalità economico finanziaria è fondamentale ed è un tassello importante e imprescindibile per i nostri alunni Cominciare a vedere la cittadinanza attiva che cosa significa educazione finanziaria è fondamentale quindi cominciare proprio dai rudimenti portare queste nuove generazioni proprio dentro a quello che è diciamo l'ambito in cui vogliamo crescerli loro oggi sono cittadini italiani, cittadini europei quindi questo non è che un tassello che grazie alla guardia di finanza si unisce un po' a quello che è il lavoro delle nostre scuole Dopo Urbania che in questi giorni capitale della cultura per una settimana dal prossimo 4 marzo toccherà a Fano essere al centro del programma del progetto 50x50 capitali al quadrato di Pesaro capitale della cultura Fano si prepara ad una settimana da capitale all'interno del progetto 50x50 di Pesaro capitale italiana della cultura 2024 l'iniziativa che coinvolge tutti i comuni della provincia ha infatti visto la presentazione del programma della vicina Fano che si svolgerà dalla 3 alla 10 marzo con tantissime iniziative per tutti vi attende così tanto che mi dicevano i grafici che non avevano lo spazio per inserire tutto il nostro programma più di così Fano si chiamerà naturalmente culturali perché noi siamo naturalmente culturali tutto l'anno e tutti gli anni quindi ci aspetteranno visite accompagnate alla Fano romana potrete vedere le bellezze dei nostri monumenti ascoltare concerti grazie al coro gosper, grazie all'orchestra sinfonica di Rossini tante conferenze, presentazioni e in più a fine di questa settimana ci sarà il Festival di Economia Circolare che per il primo anno arriva a Fano e sarà il primo di una serie di anni grazie alla collaborazione con le associazioni, con le imprese, i consorsi tutta la realtà di Fano e del territorio parla di ambiente perché? Perché Fano si basa proprio su questa lezione grazie a Vitruvio che 2000 anni fa ci ha fatto capire che cultura e ambiente devono assolutamente essere collegati per un sviluppo ottimale e sociale e questo è anche il focus di Pesaro Capitale che si chiama la natura della cultura quindi più di così dal 4 all'11 marzo a Fano ci sarà tantissimo vi potete stabilire nella nostra bellissima città perché non avrete un minuto libero Grande importanza e attenzione è stata data all'8 marzo che vedrà tantissime iniziative in occasione della giornata internazionale della donna Ci siamo insomma sentiti una certa responsabilità di interpretare in modo ancora più importante e rigoroso una proposta culturale che abbiamo pensato appunto nella programmazione di Pesaro Capitale della Cultura e anche con la collaborazione della Fondazione Teatro della Fortuna proponendo due appuntamenti che hanno alle spalle una ricerca di oltre un anno e mezzo che ruota intorno al tema della marineria un tema caro alla nostra città indagando quella che è la dimensione e l'identità delle donne all'interno della marineria partendo dal libro marinaresco il romanzo marinaresco di Giulio Grimaldi La Maria Risorti credo che vada al merito a Fano di aver costituito un programma innanzitutto molto ricco ma che tiene insieme quelli che sono gli elementi distintivi, imprescindibili della città di Fano quindi dall'archeologia al tema naturalmente legato al carnevale fino al lavoro fatto sugli asset principali che la città ha con non è anche un programma innovativo impostato sull'economia circolare quindi anche questo molto in linea in realtà con quello che è lo spunto dato dal dossier della natura e della cultura di tenere natura, tecnologia e sostenibilità al centro delle progettualità Anche domani continuano le celebrazioni delle settimane rossignane alle 16.30 il Museo Nazionale Rossini in collaborazione con il Conservatorio propone Rossini in sax, concerto di compleanno al museo dove ad esibirsi sarà l'Adrian Saxophone Quartet del Conservatorio in una performance con brani tratti dal repertorio rossignano ma non solo e poi alle 21 al teatro sperimentale si danza sulle musiche di Rossini con Cenerentola una storia italiana della compagnia Fabula Saltica con coreografie di Claudio Ronda Anche il 2 marzo a Pesaro e a teatro con un nuovo appuntamento della stagione della piccola ribalta sabato alle 21 tornano in scena la magia e l'incanto di Io, Pessoa e i miei mille volti, viaggio tra poesie e sogno da Il Marinaio e altri scritti di Fernando Pessoa, regia di Antonella Gennari e Mario Cipollini E sempre sabato 2 marzo allo spazio bianco di Via Zongo inaugura la mostra Tutto nasconde un segreto, nuovi scatti Una personale dell'artista pesarese Maria Letizia Morini a cura di Giorgio Donini In mostra una serie di fotografie recenti incentrate sull'osservazione dei particolari dei fatti semplici del quotidiano in una mostra aperta fino al 31 di marzo La Carpegna, Prosciutto, Basket, Pesaro, il Comune, Aspes e i rappresentati dello storico gruppo di sostenitori dell'inferno bianco-rosso comunicano che domenica 3 marzo a pochi minuti dal via del match tra la VL e la Germani-Brescia verrà ufficialmente intitolato il settore K della curva della Vitri Frigorena all'indimenticato Marco Piccoli Anima fondatrice del tifo organizzato bianco-rosso scomparso prematuramente nel novembre 2022 e compagno di tanti duelli ed emozioni vissute insieme sempre con la pallacanestro e la vittoria Libertas nel cuore E concludiamo il nostro telegiornale andando a conoscere meglio i due pizzaioli e il ristorante pesarese freschi vincitore ai recenti campionati del mondo di pizza senza frontiere tenutisi a Rimini Serata di festa alla macelleria Cucine Pizza Nel ristorante pesarese di Via delle Galligherie si è tenuta ieri una cena celebrativa per festeggiare il doppio trionfo ai recenti campionati mondiali di pizza senza frontiere tenutasi a Rimini Nella Kermesse internazionale in terra romagnola i pizzaioli Eduardo Barone e Gianfranco Tinto si sono piazzati sul gradino più alto del podio per la loro qualità e originalità che li ha portati a mettere in tavola le migliori ricette di pizza napoletana Un doppio testato di qualità e gratificazione per i quattro anni di lavoro nel ristorante pesarese Siamo entusiasti e orgogliosi di portare Pesaro sul gradino più alto del mondo per quanto riguarda la pizza Dopo soli quattro anni siamo alla pizzeria napoletana che ha avuto la medaglia d'oro ai campionati mondiali del 2024 che si sono tenuti a Rimini per noi è stato chiaramente straordinario e inaspettato ma frutto del grande lavoro che c'è stato in questi anni per quanto riguarda i miei due pizzaioli Eduardo Barone e Gianfranco Tinto Ce l'ho messa tutta, non ho dormito la notte per creare la pizza per creare l'impasto giusto, per vincere quindi è una bella soddisfazione è stato bello condivindere a fare merito con un buon punteggio con mio zio è stata un'emozione bellissima anche perché lavoriamo tutti e due nella stessa pizzeria Ero incredulo nella partecipazione e ancora più incredulo nella vittoria non ci speravo nemmeno anche se so che la mia è una buona pizza e un buon prodotto ho portato una semplice pizza classica napoletana, la bufalina solo che invece di mettere il classico pomodoro crudo sotto ho fattuto con un napoletano e con questo ho vinto Vincendo primo classificato nella napoletana tradizionale portando una pizza con un impasto alta idratazione digeribile la pizza è la nuova Napoli inventata da me con pomodoro san marzano dell'agronocerino sarnese frutto del cappero, alici di cetara, bocconcini di mozzarella fuori forno olio aglio rigano e pieno del Vesuvio giallo e rosso scottato nel forno a legna con aglio, olio, sale e pepe è stata una bella manifestazione avevo capito di piazzarmi in un'ottima posizione ma sinceramente non pensavo di vincere la vittoria è stata proprio una grande soddisfazione abbiamo partecipato a questo campionato che è uno dei più famosi del mondo dove ci stavano giudici di spessore come Enrico Porzio Vincenzo Abbate poi ci stavano ex campioni del mondo vincitori di pizza Master Champions ci stavano ospiti come Bonci come Antonio Sorrentino quindi era una delle manifestazioni più importanti al mondo e abbiamo gareggiato con pizzerie abbastanza forti anche con Accademia Pizzaioli Federazione Pizzaioli Pizzaioli Mulino Caputo Accademia Accademia Taiwan di tutto il mondo praticamente è stato bello perché non pensavo veramente di arrivare nel primo posto Si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News continuano però gli spazi informativi in questo giovedì subito dopo il Tg alle 20 andremo a vedere lo speciale dedicato alla inaugurazione della scultura Il Volontario avvenuta a Montelabate scultura realizzata dal artista Riccardo Aleodor Venturi appuntamento alle ore 20 A seguire il giovedì sera è la serata dedicata a Insieme a Canestro che riparte in vista della ripresa del campionato di Serie A questa sera la nostra Elisabetta Ferri alle 21.20 avrà come ospiti giornalisti e opinionisti Matteo Fattori e Marco Cadeddu oltre alla possibilità di interazione in diretta con voi tifosi e telespettatori al numero WhatsApp 370-366-7210 insieme a Canestro questa sera alle 21.20 Altra diretta è quella consueta del mattino con l'informazione di buongiorno Rossini vi aspetto domani a partire dalle 7.20 con le notizie proposte dai quotidiani locali il resto del Carlino e Corriere Adriatico e dunque appuntamento a domattina perché si conclude qui invece Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV e vi auguro una buona serata